E' ancora preso a quella ragazzina? Resta qui stamattina. Tu non hai viaggiato molto, vero? No. In realtà no. Chi non si muove non ha modo di rendersi conto quali sono le proprie catene. Questa è per te. Come ti chiami? Emanuele. Demmi la tua paura. Il dolore. Fisico? Sì. È sembra che tu non ci sei ancora arrivato. Volete sapere qual era la mia grande paura? Sì. 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 Sì.